Ma ELIS è un grandissimo esempio di formazione innovativa che è esattamente quello che ci serve per avvicinare il mondo della formazione al mondo delle esigenze delle imprese. Io quello che faccio per ELIS è dedicare un po' del mio tempo su alcune delle iniziative e in particolare abbiamo collaborato a far partire Generation che è una delle iniziative che ELIS sta portando avanti. Grazie per la visione!